Rory Brecher Rory? Sì, conosco Rory. Non è per niente uno da sottovalutare. È vero, è un tipo dall'aria strana, ma non devi fare caso ai suoi capelli e alla sua voce acuta. È tutta una copertura, non ci cascano. Qualche sera fa, la tv di Rory si è rotta. Allora lui è sceso al pub per vedersi la fine di una partita non interessante. La tv è accesa, ma nessuno ha guardato così. La tv è accesa La tv è accesa, ma nessuno ha guardato così. La tv è accesa, ma nessuno ha guardato così. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti